È davvero un bel periodo per Lino Guanciale, dall'allieva a non dirlo al mio capo passando per La Dama Velata o Il Sistema, l'attore abruzzese è sempre presente e inarrestabile senza contare poi i numerosi progetti teatrali e cinematografici che lo vedono impegnato in prima linea. Per questo motivo si è visto costretto a declinare l'invito a partecipare a Che Dio Ci Aiuti 4, la serie tv con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. La fiction, targata Lux Vide, debutterà sul Rai 1 il prossimo 8 gennaio in prima serata, tuttavia non vedrà Lino Guanciale nei panni del bell'avvocato Guido Corsi perché, come ha avuto modo di spiegare sulle pagine del settimanale di Più TV, non voleva deludere gli spettatori che seguono le vicende del convento di Fabriano né tantomeno annoiarli. Dunque, Guanciale interverrà solo nella prima puntata per sposare Azzurra, salvo poi trasferirsi a Londra per motivi lavorativi e tornare nell'ultimo di 8 episodi. Recitare in una serie così lunga come Che Dio Ci Aiuti ha fatto sapere ancora Lino Guanciale mi impediva di lasciare altri ruoli. Ne è balza però alla pena perché sono arrivati, non dirlo al mio capo, il sistema è l'allieva. La carriera dell'interprete di tante deliziose fiction e serie TV Rai, il Golden Boy, potremmo soprannominarlo, sta decollando definitivamente. A partire da febbraio, infatti, sarà protagonista della Porta Rossa, mentre tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018 sarà la volta della seconda stagione di Non dirlo al mio capo e dell'allieva.